Scivolamento verso la povertà, pensioni sempre più esigue, difficoltà a condurre una vita normale, budget ridotti da spartire tra spesa per generi alimentari, farmaci e prestazioni sanitarie. Sulla carta sono numeri, ma ognuno ha una storia e non tutti per pudore hanno voglia di rendere pubblica i loro affanni per una vita normale ed allora scattano le rinunce. E questa è la fotografia scattata questa mattina nel corso dei lavori del Consiglio Generale dei Pensionati della Cisla di Salerno che si è svolto presso l'Hotel Mediterranea in via Generale Clarca a Salerno. In provincia di Salerno in una condizione generale che vede i pensionati impegnati a fronteggiare anni complicati, politiche anche governative che si abbattono sui redditi dei pensionati. In un ultimo appunto questa vicenda di un conguaglio che a partire dal primo di giugno interviene sulle pensioni con delle trattenute inverosimili per fare cassa e finanziare altre misure del governo. Quindi pensionati vittime di questo tipo di politica. In provincia di Salerno confermiamo una difficoltà che vede molti anziani nei territori in oggettiva difficoltà dove anche grazie all'intervento dei consorsi, delle politiche sociali, degli ambiti territoriali si riesce a fronteggiare in talunni casi anche difficoltà di cura, di alimentazione. Alcuni dati li avrete, il fatto che noi interveniamo con il Banco Alimentare in segmenti molto numerosi di pensionati è il segno evidente di questa condizione. A tutto ciò poi si aggiunge anche la spesa sanitaria. Ricordiamo che negli ultimi tempi spesso si registra il blocco delle prestazioni e della diagnostica. Sì, c'è questo piano trimestrale di limitazione della spesa sanitaria e molti ricorrono poi nei primi giorni del trimestre a recuperare analisi, diagnosi che altrimenti pagherebbero. Il segretario uscente Giovanni Dell'Isola nel corso dei lavori ha parlato di tempi importanti, sottolineando in modo particolare l'allarme povertà dettato da pensioni sempre più esigue delle difficoltà dei pensionati della provincia di Salerno a ritirare le somme di denaro presso gli uffici postali del territorio. L'appuntamento è stata l'occasione per rinnovare le cariche della segreteria provinciale affidando a Giovanni Cantalupo la guida per i pensionati. Per lei è un nuovo percorso sindacale, qual è l'auspicio ma soprattutto qual è la priorità che andrà ad affrontare? Innanzitutto faremo un giro nella provincia per conoscere i problemi e per sentire le proposte e le proteste della gente soprattutto. Quindi da Sarno, Scafate fino a Sapri vogliamo capire bene quali sono i problemi liari sul territorio e come affrontarli insieme agli antilocali e alla regione e alla provincia.